Uno dei temi più sentiti dai romani, dai residenti del decimo municipio, è quello del decoro e della pulizia delle strade. Tra l'inciviltà di molti cittadini, che abbandonano rifiuti nell'ambiente e anni di incuria da parte delle istituzioni, lo spettacolo che si presenta a chi passeggia in città è desolante. Per questo la giunta del parlamentino Lidenza ha stabilito nuovi interventi proprio su questo fronte. Dal tavolo congiunto con i responsabili AMA, Polizia Locale, Ufficio o Giardini arrivano importanti novità. A partire dal posizionamento di fototrappole nei luoghi più critici per la lotta alle discariche illegali. Abbiamo avviato un appalto per l'istituzione di fototrappole su tutto il territorio del municipio. Quindi a una dotazione che viene da Roma Capitale alla Polizia Locale, noi aggiungiamo un appalto municipale per distribuire sul territorio e sulle aree verdi maggiormente vessate dall'abbandono illecito dei rifiuti. Questo speriamo che in qualche modo possa funzionare da deterrente affinché i malintenzionati la smettano di abbandonare i rifiuti illegamente in quelle aree un po' più nascoste e purtroppo ce ne sono tante nel nostro territorio. Un'altra importante novità riguarda il potenziamento dell'attività di spazzamento stradale grazie all'intervento di una ditta in appalto che affiancherà AMA e di una macchina spazzatrice aggiuntiva. C'è un incremento del servizio di spazzamento. Alle spazzatrici attualmente presenti si affiancherà una ditta in appalto di AMA, quindi incrementerà le attività di spazzamento e entro dicembre avremo un'ulteriore spazzatrice nuova di ultima generazione sul nostro territorio. Sono emerse chiaramente queste criticità dovute anche alla bomba d'acqua che ha interessato il territorio nei giorni scorsi, quindi abbiamo chiesto appunto proprio di tenere attenzionate alcune aree del municipio. Le fototrappole sono un deterrente importante. Abbiamo fatto un accordo con le forze di polizia, l'arma dei carabinieri, i vigili. Abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini che vi posso assicurare una percentuale piuttosto rilevante, come dire, non si comporta bene in questo territorio, se no non avremmo centinaia di mini discariche. So che si sono lamentati i cittadini anche per l'allagamento che ci può essere stato rispetto alla bomba d'acqua degli scorsi giorni, però inviterei i cittadini a riflettere sul fatto che l'allagamento è defluito in maniera più veloce che in passato. Significa che la pulizia si fa, ma non è sufficiente.